Prosegue l'esercizio provvisorio per l'Unione Sportiva Rezzo. A che punto siamo? Cosa è successo in questa settimana? Questa settimana abbiamo proseguito in tutti gli adempimenti che la legge prescrive. Abbiamo fatto l'istanza al Tribunale per la nomina del Comitato dei Creditori che è stato nominato dal giudice delegato. Quindi abbiamo formalmente la rappresentanza dei creditori costituita nell'ambito della procedura concorsuale. Abbiamo ottenuto la nomina del cancelliere per la redazione dell'inventario. Domani mattina inizieremo l'operazione dell'inventario dei beni mobili presso la sede legale e presso gli altri luoghi dove chiaramente ci sono i beni di proprietà della società fallita. Tutti elementi che sono necessari per avere contezza degli asset di proprietà della società fallita e per le valutazioni sia relative alla dismissione dell'azienda sia per le valutazioni sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio. Per la prosecuzione dell'esercizio provvisorio è necessaria una raccolta di risorse che comunque continua senza sosta? Continua senza sosta è necessaria sì come ho detto fin dalle mie prime dichiarazioni l'esercizio provvisorio può continuare solamente nella condizione in cui autonomamente nel periodo di esercizio provvisorio ci sono le risorse per sostenere la copertura di tutti i costi e quindi tutte le necessità che l'azienda ha per proseguire la propria attività. Quindi raccolta fondi qualsiasi intervento esterno è importante io oggi pomeriggio sono anche presso la Lega Pro a Firenze un appuntamento fissato per verificare qual è la situazione della società nei rapporti anche dare avere con la Lega Pro attraverso le varie stanze di compensazione sulle risorse che l'Arezzo deve ricevere e sulle somme che l'Arezzo deve dare anche per vedere che disponibilità ci sono a livello di Lega dal punto di vista finanziario sia per i creditori sia eventualmente per sostenere l'esercizio provvisorio. Anche perché le scadenze come ha sempre detto sono imminenti ma soprattutto quotidiane? Le scadenze sono quotidiane, l'organizzazione di una partita, ancora più una trasferta implica il dover sostenere dei costi, costi di trasferta di pernotto, costi della squadra. Ovviamente a fine di ogni mese ci sono le mensilità da rispettare, noi come curatori dobbiamo e siamo obbligati a rispettare il pagamento degli stipendi, il pagamento delle contribuzioni, le ritenute e quindi anche a fare tutti gli adempimenti fiscali previsti dalla legge. Non possiamo quindi saltare scadenze sia nel rispetto delle norme di legge sia nel rispetto delle norme regolamentari.